...tenere sempre una famiglia passata, come un'ultima... ...dentro! ...per cui punto gli vedremo di capire come erano i congiuditi alla vera parte di questa gara. Intanto la prima semifinale ha già preso via. Sono sul percorso con il momento 20. Alla prossima passaggio abbiamo seguito la campana... ...che era quella che già l'ultimo momento in gara... ...che dalla prossima quattro, perché non ho toccato la serie... ...verranno a segnare i primi punti vatti. ...due, due, due, prima, seconda paletta... ...che su questo specifico che guarda abbiamo in sé... ...siamo a quattro, 26... ...attenzione a me, che punti in baglio! ...punti in baglio per la vostra persona e la classifica! ...guadagni di due punti su questo passaggio abbiamo sei... ...la concorrente, dicordaglia due, la concorrente... ...quattro, 152, più 9, in gara... ...e in baglio per la loro concorrente... ...punti per la loro 53, Bailo Asia... ...questi due punti messi a segno... ...sulla traguardo, meno sei... ...quattro, meno 50, più 10, più 10, più 10... ...punti per la loro impegno... ...sulla traguardo, meno 50, più 10, più 10... ...sulla traguardo... ...sulla traguardo... ...sulla traguardo per la loro... 5 toccanze superato tra brevi saremo a meno 4 giri dalla fusione guadagna due punti la concorrente numero 46 parco a pomarola e viva 1,743 un punto lo guadagnerà correnti 66 il presidente dopo aver superato il traguardo di 4 giri alla conclusione stiamo avvicinando rapidamente anche al traguardo di Pino 2 vai Gaia vai Gaia vai Gaia vai Gaia vai Gaia vai Gaia stanno ruvando la stia la concorrente numero 65 la concorrente numero 3 la concorrente numero 3 la concorrente numero 65 la concorrente numero 3 siamo in prossimità dall'ultimo giro ancora i primi punti volanti in tanto in classifica abbiamo con due punti con due punti con due punti con due punti sul traguardo del numero 0 il numero 0 in cui la concorrente numero 65 che ne viene ripresa la concorrente numero 4 mancano solo i punti riguardo concursivo riguardo produttivo e sachele tre minuti con la prima scontata che si frutta a Donizio con la pista adesso si può andare in più di musici guarda che lo trovi migliori per questa cosa non cambiano la insulina di prima preghine per il primo e per il primo è che quando parla insieme di prima la gara questa è la mia di possiamo wurde con la sua stanza questa è la mia la sua la sua Grazie. 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 No, tu mi chiamai. No, tu mi chiamai, no. Guarda. Raccurato del Veno 2. Sara no, Sara. Guarda il mio termine. L'Aire! Fino alla fine, non fino alla fine. L'Aire che fa il finale! Poi ce la fa ancora andare in finale. Guarda le due punti, la ricorrente 526, sul preparo delle 22, Francolini a destra con il 264, e un punto notorale, la ricorrente 55, al che ricorda, nella 263. L'ultimo programma, scusate la campana, e l'ultimo programma avvelante, con tutti i punti di bagno, poi la valuta finale. L'Aire che sta a sbagliare, sta sopraggiungendo la festa, e poi le due ore sali che non si sta a fare. L'Aire che sta a sbagliare! Dai di! E l'ultimo programma, la componente numero 7, con il 2 di Enora, che sarà il 4 di Enora. E la simile di Aire con 5 punti, qualche ricorda, con 4 punti, qualche libera, come 2 di Enora. E l'Aire, come 2 di Enora. Come un'altra, 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 come un'altra. E come due punti di Osa, questo è un po' unificio, il gruppo di Pazano, con un'altra, come un'altra, come un'altra. Grazie